Vedi Vietato Mancare cari amici, perché è Vietato Mancare? Perché questo è un festival ricco di intrattenimento e oggi siamo qui per parlare di musica la musica che proprio delineerà in tutti gli aspetti questo festival meraviglioso che è Gods of Mel quest'anno ci siamo dati un bel po' da fare per scandire bene le tre giornate di Gods of Mel 2017 in base ai generi musicali, per cui il venerdì sarà dedicato al punk, il sabato al metal e la domenica spaziamo un po' tra ska, rock e andiamo a finire la serata con una band che fa tango punk un genere un pochino alternativo Ricordiamo che Gods of Mel è un festival di ricerca si doneranno i fondi per la ricerca contro il cancro e tra le altre cose sarà un'opportunità artistico e culturale per gli artisti emergenti di proporre le loro proposte musicali scusa la ripetizione Michele vuoi dirci qualcosa di più? la scelta strutturale del nostro festival è stata quella di dare spazio principalmente a band che propongano un repertorio proprio piuttosto che a cover band proprio per stimolare questi ragazzi a darsi da fare perché c'è ancora un bel po' da fare con la musica facci qualche nome venerdì sera Dirty Speed la band principale sabato sera andiamo da Delirium Extremes band locale a Elven King e la domenica parliamo di Sclero Zero una band bellunese e Espana Circo Este che è la band di punta della domenica ma qui alle mie spalle ho un super DJ conosciuto in tutto il territorio bellunese com'è sta storia? Qua abbiamo parlato solo di gruppi e il DJ? Il DJ quando c'è il DJ? il DJ ci sarà principalmente venerdì sera perché con i gruppi ci sarò anch'io per accompagnare la serata di apertura il DJ farà un po' di tutto un po' di tutto per accompagnare quelli che andranno avanti quindi già approfitto fin d'ora per dire che sono a disposizione del pubblico chiedete e vi sarò davanti sei volontario all'interno dell'associazione Time Farm secondo te la musica è un collante? la musica è sempre un collante tutti i festival sono un collante ma la musica tiene a unire un po' tutta la gente sia senza distinzioni di sesso, razza, colore grazie DJ Dallo per questa tua testimonianza tu che di musica ne sei tanto musica come flusso che coinvolge un sacco di persone che come sempre ci fa dire vietato mancare musica 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 musica